Siorio Toby, da come potete vedere, guardate cosa stiamo avendo qua da... Oh mio, ho iniziato di merda, non so più cosa dire, sono troppo emozionato Perché stiamo per giocare per la seconda volta a Track & Field Momenti di gloria No, perché l'avevo... Come? È uno dei retro che è piaciuto di più Assolutamente, e avevamo promesso che avremmo fatto un altro Track & Field Facendo tutte e otto le categorie Uno contro uno Assolutamente Siamo qui a far vedere che non siamo capaci di farne manco mezza Adesso si capisce già i suoni Perché mi sembra che non stia laggando come al solito Sì, a parte è molto meglio Nonostante ci abbia detto 750.000 euro di ping Faccia due player A Ecco qua, due player A, giusto? Sì E proprio momenti di gloria 100 metri piani Ok, cominciamo con i 100 metri piani Eh, 100 metri piani Era AB o destra-sinistra? No, AB Sicuro? Sì Non mi fotte già subito Aspetta Siamo lì, siamo lì, siamo lì, guardi 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 che sono io quello Beh, non dire Oh sì Assolutamente sì Ha ragione Ha ragione, stavo sboc... Guarda che recupero! Nooo, stavo recupero... E io mi son confuso Pensavo di essere quello sotto Sei impedito Ma porca Eva Ma guarda come esulta E ho perso io Perché non ho perso Eh, vedi, adesso sei capita la musica Ma porca Eh, vada tutti io allora? Eh, vada, che dovevo fare? Eh, andiamo avanti Faccia, faccia Sempre il... Orazio Kane con i baffi Eccole! Eccole! Come si salta già? E col su! Deve premere su! Col su, giusto? Eh, sì Ma basta, pausa Non sono io Non sono io, eh? Non sono io Vada, vada! Ma no, ma no Ma dove? Tra l'altro Da dove? Guardi come si mette Con le gambe a... A 45 gradi Questa stavolta L'ultima è quella buona Questa c'è, questa c'è Lo sento... Ne... Allora, il salto è valido Allora, il salto è valido Dovrebbe fare 8 metri e 90 Ha fatto 3 metri e 11 Perfetto Eh, dobbiamo rifare Singolarmente Ma se facciamo due player B Provi a fare due player B E cosa cambia? Secondo me lì Quando perdi Comunque rifai anche l'altro Perché non è possibile Che se no Se uno perde E non fa il record Non fa quella dopo Boh, proviamo Provi il long jump Penso che i 100 metri L'abbiamo fatto Salto lungo Prego Ah, molto più veloce adesso A mito maglia Parto sempre io Vada Anche in avanti deve premere Eh, sì Eh, sì C'è un bel mezzo Ho capito Ma io non è che posso Cioè Anche perché io devo fare Z e X Che sono A e B Con la mano destra E poi con la sinistra E le freccine Quindi ho le mani Completamente in... Eh, anch'io Vada 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 Ci si giocavano Nel palio elitico Come facevano, cioè Eh, ma magari Con il joypad funziona... Cioè, riesci di più Ma da... Ma guarda che non è possibile Cioè, io ho saltato Quando lui era Prima del coso di 80 Dove c'è scritto Ottantesimo metro Bisogna Bisogna schiacciare Quando per niente Sei ancora qua Più o meno Esatto A 30 Esatto 20 30 Eeeh Eeeh Non ho neanche raggiunto Non ho neanche raggiunto Oh mio Quello... Ce l'ha fatto L'ho eliminato Niente Eliminatissimo Manco io? Dai, manchi lei Manco io Manchi lei Manchi lei Questa la devo fare Lo devo fare Lo devo fare E poi si batti lei? Guarda che non è impossibile Farlo Voglio vedere cosa ti dice 2 metri e 30 Però c'è È il miglior salto Di tutti e tre Ho fatto 3,15 3,15? Eh Eh vabbè Vediamo l'altro Da questo punto Sì Ah ecco No e vedi Player B Almeno ti fa Ne fai una E poi scegli l'altra Eeeh Prego prego Meglio così Allora 100 metri Non è che siamo sempre Eliminati entrambi Forse no? Può darsi Non lo so Vada giù 110 metri lo sai Questo è bravo Questo è bravo Minchia Mi fotto subito qua Qualificazione 13 secondi e 50 Ce la faremo Mai Oh no Sono partito Due È partito prima Eliminatissimo Eliminatissimo Oh no Sono fatti Già uno si è fottuto Vai questa c'è Questa c'è Vada Vada Vai 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 Mi sudano in mezzo alle dita delle mani Aspetti Ma che mi fa male tutto No Dai Recupero No ma guarda che non è possibile Tutti e due eliminati No tutti e due eliminati Ma come Ma come è possibile 13 secondi Come cazzo fai È impossibile Ma scusa tu come fai Con una mano sola Fai A B A B Sinistra su ZX E la destra Schiaccio una Io non riecco La sinistra Il mio braccio sinistro Se lo stacco e lo butto È uguale per il mio corpo Non cambia niente Contrario Dovessi incrociarti le mani Infatti sto incrociando le mani Però non riesco Non riesco Te lo giuro Devo per forza Ometto la tastiera al contrario La giro Non possiamo cambiare i pulsati Potevo farlo prima Allora ormai niente No vabbè L'hai scelta dell'otto Prego Sempre meglio Vabbè Ma è una fatica È molto peggio Che farli nella vita Versi così Guarda guarda Adesso Questo me lo ricordo Mi faceva Questo lo faccio bene Eccole Complimenti Ma c'era bello Per qualificarsi 80 Ha fatto 52 Quanto ha fatto Ho capito Morca puttana Ha premuto su Sì no Sì Mi tiro i pugni nel naso Correndo Eeeh Ooooo Dov'ha Ma che cosa Senti eh Però almeno è valido Ma perché non riesco A cliccare bene Per andare veloce Caprina Devo prendere più velocità Secondo me Poi prema un po' di più su Ok Non tanto Perché sennò Va solo su E non avanti E infatti Io ho premuto Pochissimo su Ma guardi che strani Ma per come Madonna Aspetta No Allora c'è un trucco E non ce l'avete detto Ma adesso Questa Ma vado pianissimo io Vedi quanto vado pianissimo Aspetta 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 Questa volta buona Vai vai Più di 40 Almeno Spingi Niente Ma porca troia Ma non è possibile La bella Qua proprio Dove uno dimostra Tutto se stesso Vai 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 No Ma vedi che Comunque anche Premendo su piano E' anche 20 Fa qua Guarda E' anche 20 26 Guarda E' andata proprio Di lusso Ecco Aspetta Guarda il pubblico Che Che bello il pubblico C'è uno con la braccia su Braccio giù Braccio su Braccio giù Questo c'è Questo c'è Tutta la vita Tutta la vita Buono Questo è buono 40 Qua ci sei 51 51 Fammelo passare E' a 40 A 80 Va bene Ma perché almeno Dici Guarda Questi due Sono dei rimbambiti Faccio passare Quello migliore Ma madonna mia Ma è troppo Mica Non è possibile E si continua Con lo Ah il tiro al piattello Ah questo forse Un po' più facile Vada vada Minchiavo L'ultima però Che cazzo è Quella cosa Ah ma aspetti Ah ma insieme Siamo No non lo so Non lo vedo niente Non che sto capendo Un cazzo Chi sono Chi è Aspetta Che cosa Non sto capendo Una fava Non sto capendo Aspetti Ah ok Io a sinistra E tu a destra No E mi 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 cosa Che non ho visto Ieri Oddio Ma qual è il tasto E Non so Io Fra c'è su e giù No ma lei li sta facendo Com'è Ma io sono a destra A sinistra Aspetti Tutti Tutti Ma che tutti Eh sì Eh io primo P era Adesso è il secondo P Ah Ecco perché quando Merda Però io non ho comunque capito Ma forse A e B sono i due quadrati Può essere Che A Che A è quello a destra Qualificazione Sì Sì Capere così E A e B Sì Credo Io adesso che sparo Tutta la micchia Vediamo un po' E no perché non può Sparare quando vuole Vede Che il quadrato Diventa nero Quando sta ricaricando Deve essere Preciso Per forza Ecco Ah E' No Stiamo sparando Delle mentos Perché Minchia, 2-3! Io quanto ho fatto prima? 400, ma come? Allora, forse ho capito. Sì, minchia, ma come fa uno? Guardi che ce lo faccio! Ce lo sto facendo! Porca troia. Ma dai, ma perché mi confondo? Sono due quadrati. Perché devono essere due quadrati? Che senso averne due? Senti, uno dice, guarda, io sono un mega pro a Call of Duty. Qua deve avere due mirini. Minchia, ma non ho capito. Cioè, io a un certo punto andava bene e poi non andava più bene. Per... Minchia, adesso vediamo. Signor Francesco. Poi saltano giù, su, vanno, non si capisce niente. Tu, 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 niente. Ma vedi, poi, allora, tu credi di averlo capito? E poi si sminchia tutto. Esatto. Cioè, che dici? L'ho capito finalmente. Settecento. Eh, micchia, premione, totale? Me li somma? Ah, può darsi che te li... No, mi sa di no, sai? No, li ho sommati, 1400, ma non bastavano. E io sono a 800 solo, merda. Oh. Ah sì, 400 e 400, sì. Tanto va pure a scatti. Guarda che ce la fai, va. Dai, cazzo. Ma... Ma dai! Dai, beh, no. Ma cazzo, ma vedi... Ma fa culo! Ma poi è meglio che fai con gli occhiali... Ma cosa fai su giù con gli occhiali? Eh, ho due. Mille e due, sì. No, ma secondo me non è tutto il totale. Ah sì, il totale, eccolo, la mille e due. Mio Dio, che schifo faceva! Sempre meglio, vediamo un po', vediamo un po' adesso e stavolta ci rifacciamo. Salto, eh, no, questo è impossibile, io ce lo dico, eh. È impossibile, vada. Pronto. Prego, prego, ok. Ma ha cambiato, non è più quello di prima. Adesso c'è il capelli rosso. Uno! Dov'è! Due! Ma come fa a saltare così? Tre! Eh, la sabbia è laggiù, eh, comunque. Vabbè, adesso, se... No, i tre salti ci sono. Lei dice, triplo salto, me non c'è scritto dove. Cioè, dice, fai tre salti. Ma è sempre... Ma è sempre lui con una canotta diversa, non mi prende bene il culo. È quello più abbronzato il tuo adesso. No! Vabbè, me li contano lo stesso fatti, va bene. Quanto ti ha dato? Niente perché fai. Niente perché fai. Ma dai, quanto è difficile! Ora metto. I nostri progenitori erano molto più bravi di noi nel video gioco. Vabbè, di me ci vuol poco, però... Uno! Due! Tare! Dai che ci arriva! Fai un salto di 200 metri! Ahahahah! Cosa fa con la mano, tanti? Si dovrebbe grattare la testa, ma... Esatto, invece si pettina i capelli verso il basso. Esatto. Dai, 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 questa è la volta buona, me lo stesso. Questa è buona, questa è buona. Uno. Due. Guarda che sono quasi arrivato! Quasi, però si vede molto più sabbia a sto giro. Si vede molto più sabbia, quindi... È la bella questa, questa è proprio la migliore. Questo è il salto più bello che ho fatto. Questa... Ci arriviamo adesso. Dai, dai, questa salta sì. Per un pelo. Uno. Due. Guarda che c'è... C'è tutto questo, c'è tutto. Dai, che cazzo dici? Cosa fa? Si soffia il naso adesso, giustamente? Ce la fa più. È depresso. È veramente... Dopo le... In analisi, vanto. Il nostro amico Baffone. No, devo ancora... Devo ancora... La velocità della luce. No! Sì. Ma neanche il terzo... Il secondo e il terzo salto. Ci sei risultato. Proprio. Dici, vabbè, va, guarda. Allora, se andiamo a fare la rizza. È meglio, va. L'ultimo... No, gli ultimi... Gli ultimi due, vediamo. Oddio. Gli ultimi due. Vabbè, dai, tira l'arco, dai, ce l'abbiamo fatto. Che cazzo di posizione hai messo, l'arcee? Ecco. Eh, ha sbagliato. E poi? Eh, devi riprovare. Vada, vada! No! Aspetti che passi davanti a lei. Vada! Buono! Buono! Bello, bello. No, lo devi anticipare, lo devi anticipare. Ah, minchia, mi sono distratto. Oh, no, nel bianco. Nel bianco. Ma, uffa. No, troppo, troppo. Troppo. Troppo c'è da fare, no? Come? Devo fare una freccia. Ma cosa hai fatto? Hai sprecato... Mi hai mangiato una freccia perché poteva tranquillamente andare. Ha sprecato una freccia! Con calma, questo... È giudato. Se non avessi ancora una nell'arco, invece con quelle comprese... Ah. Guarda, c'è anche il vento, ha visto che c'è anche il vento. Ce la possiamo fare. Cosa devo fare? Ah, ventosette su? Merda! Aspetta. Dai, questa... Uff! Finchia! Ma lo segnava nel centro! Non fai lo stronzo, gioco! Me lo segnavi nel centro! Perché hai fatto lo stronzo? Finchia, hai già fatto più di me! Dai! Che questo mi qualifico! Ma lo segna nel centro lì! Perché mi dice che poi nel tabellone è tutta altra cosa? Bugia! Perché devo inclinarlo su? Che c... Ma cosa dici? Perché la tirata? Io pensavo che andando... Ma te le mangia le frecce! Se tu aspetti che lui tocca la parete, te le mangia! Eh, ho notato, micchia, 1100! Dai, è buono! Dai, forse riesco a farlo! Se te le somma sei passato! Ma secondo me non le le somma, sai? Quella che te la mangia così la freccia. Mangiata! Ma veramente? Eh sì! Guarda che adesso te la mangia! Mangiata, vedi? Guarda! Sparita! Ma in realtà la mette nell'arco, credo, spero! Non lo so! Finchia, ma vaffanculo! No! Anche perché il vento è un po' su, quindi deve... Ecco, vede che sale un pochino! Uh! Sparita! Questa è andata tutta la vita! Com'è andata? Vediamo! 7,90! Vedi, tu pensavi di averne una nell'arco? Invece no, te l'ha mangiata quando è andato su! Che stronzo! Ma non ho ben... Ma perché deve essere così? Ma li so, ma li so, ma bene! Li so, ma... Ce la facciamo, questo ce la facciamo, eh! Forse ce la famo! Ma no, dove l'ho colpito? Uh! Ma non è vero! Non è vero che è sul bianco! Non dir cagate! Porca troia! C'è, c'è, tu... Ma perché è lì? Perché devi essere una merda? Guarda! E più centro di così, veramente, non so che cazzo devo fare! Non è vero! Il mio non era centrato così, era... Ma il tuo era molto più in alto, il coso! Cucchia! Vediamo, vediamo! Devo fatto 800! Ma che bene, dai, cacchio! 1180! Eh, se hai mila e nove! Devo fare mille dopo! No, qua è allagato! Qua è allagato! Ecco! Ma vedi che il suo è molto più in alto del mio! Cosa premi per tirar la freccia, tu? A Z! Ma è strano che io non riesca a tirarla così in alto, scusa! Ma io c'ho meno be... Guarda anche lì, guarda, guarda! Uuuuuh! Ma da me era molto più be... E se l'avessi colpito lì da me la dava su... Pfff! Ma vaffanculo! Dai che puoi recuperare ancora! Buono! Ma guarda lì! Vedi, vedi! Adesso che l'hai centrato te l'ha dato sul blu! Ma vaffanculo! Però mille... Guarda che forse ce la fai, eh! Oh, 1160! No, non ce l'ho fatto! Eh, sai che... No! 1.3! Eh, no! Purtroppo no! Hai fatto cadere delle mentine per terra, intanto! Eh, no, giovanene! Dai, dai, tu ce la fai! Ma porca puttana! 10! Poi! 100! Guarda, di 600 mi mancava! Porca mia! Ma vedi! Cioè io non so che cazzo devo fare! Eh! Eh! Porca trovo! Dai, 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 dai! Ce la fai, eh! Che puoi lanciare le freccette! Ma sì no, sono quelle... Siamo al bar! No! Dai, dai! Cazzo, non ce la faccio! Non ce la fai! Non ce la faccio! Sì! Ce l'ho fatta! Ce l'hai fatta! Forse ce l'ho fatto! Ma come no? Aspetta! Eh no, perché non li somma! Ma come no? Ah, non li somma! No, non li somma! Tu devi fare 2.900 in una botta sola! Vaffanculo! Vaffanculo! Dai, che gliela vai! Vaffanculo! Dai, basta! Sto gioco di me è l'ultima! Vaffanculo! Salto in alto! Madonna! Questo sarà... Ecco! Ecco! Faccia lei così vedo com'è! Il nostro amico depresso! Dove... Ha fatto un backflip di testa, di collo è caduto! Ha fatto un backflip di testa, di collo è caduto! No! No! È caduto morbido! Ma salto su un parallelepipedo di tofu stanno cadendo! Zingrinato! Non puoi da un altro! Ma stavolta non fare! Che cazzo! È una... Vai! No! Dovevi pigiare molto più su! Vai che c'era quello, eh! Tanto è una scatola... È una scatola di fiammiferi gigante! Esatto! Ma scusami, ma io più salto... Ma dai, che palle! Vai alla velocità della luce! Vai! Vai! No, per un pelo sono caduto sul materasso! Ficchia, il mio però è come dire che è andato in trazione! È paralizzato il tuo! È biseria, vai! Dai, 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 dai! Riprenditi, riprenditi! Salta tutto! Ma è molto impossibile sta cosa! Ficchia, ma affanculo! Vabbè che gioco del casso! Ti credo che ne prendo! Tanto ti conta la velocità in centimetri al secondo! Perché mai? Perché? Oddio mio! No, questo è... Allora, questo... Questo ci giochiamo il canale! Se noi... No! Ma dai! Guarda, ma spinta di aver sentito che hanno detto ci giochiamo il canale! Oddio! Ed io... Porca puttana! Oddio! E quindi... Noi siamo sempre devastati quando giochiamo al suo gioco! Questo è stato il retro di questa settimana! La settimana prossima ci saranno tante, tante sorprese fighe! Vi diciamo soltanto questo! Ma avete... Hai ragione, hai ragione! Non spoileriamo niente! Vedrete poi! Vedrete! Sarà qualcosa che non abbiamo ancora mai fatto nel canale! Speriamo vi piaciuto! Tutta roba nuova! Tutta roba fresca! Ma come va più? Ma scusi! Guardi come va veloce il bot! Come cazzo è possibile andare così veloci? Sì, è un bot! Guarda, guarda! C'ha le dita allenate il bot! Non è possibile! Non è possibile! In 13,91! Ma vabbè sì, vabbè! Arrivederci! Arrivederci! Un piacere! Ciao cari! Ciao cari! E alla prossima settimana! Ciao! Ciao! Ciao!